Eh, bella gente, il Doc è qua per i denti. Avrei voluto sfottervi, ma mi tocca, mi tocca, mi tocca elogiarvi. Perché? Perché siete forti, perché siete forti, perché è una squadra che comunque prende un 1-1 a quei minuti dalla fine e trova la potenza di fare il 2-1 e anche il 3-1 perché viene, secondo me, annullato ingiustamente perché per me quello che marca Lautaro tiene in gioco frattesi. Io dico la mia, poi mi posso sbagliare. Non vi posso che non fare i complimenti. Cioè, siete uno squadrone, avete due squadre e mi scoccia dirlo perché porca trovi se mi scoccia. Però potrete arrivare di nuovo fino in fondo. Non so se arriverete in finale, ma quarti, semifinale, questa Inter, per me ci può arrivare benissimo perché ha un gran portiere. In difesa scricchiola, scricchiola perché Bastoni non ha senso come possa essere come possa aver fatto questo downgrade. Non ha senso perché non ha senso. È vero che gli ultimi minutini inzaghiurla perché qualcosa avete lasciato al caso, Pavard svirgola, Bastoni pure. Però, ragazzi, che cazzo gli dovete dire, gli Interisti. Niente, fai l'applauso. È buono, è buono perché vincono anche oggi, all'80% passano il girone perché poi il ritorno, penso proprio sia in casa del Salisburgo, ma con questo Salisburgo. E non gli puoi dire niente. Gran gol nel Salisburgo, però, ripeto, l'Inter ha due squadre. Ha due squadre. Giocano bene. Purtroppo, purtroppo, ti diverti a vederli giocare perché ti diverti. È un cazzo. Non si può dire più un cazzo. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Fino alla fine, forza Juve. Un bacione dal Doc.